Gran finale per il Wind Summer Festival. Domenica 16 settembre in prima serata su Canale 5, e in contemporanea su Radio 105, l'ultimo imperdibile appuntamento con la musica dell'estate in diretta dall'area Expo, Parco Main di Milano, ore 20,30, ingresso gratuito.Tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionale si alterneranno sul palco per una serata unica che decreterà la canzone dell'estate 2018. A condurre l'evento Ilari Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.Ecco il cast atteso sul palco J-AX, MEC, M, Malika Ayan, Alvaro Soler, Fabio Rovazzi, The Colors, Annalisa, Irama, Benji e Fede, Ermal Meta, Te Giornalisti, Bob Sinclair, Luca Carbone, Noemi, Toccagie e Ketra FT, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Carl Brave e Francesca Michelin, Boom da Bascello Reddana Bertè, Gigi D'Alessio e Ornella Vanoni. Anche quest'anno, oltre ai big della musica italiana, il Wind Summer Festival, andato in onda in quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5 nel mese di luglio, ha dato spazio a sei giovani artisti emergenti che si sono sfidati davanti al grande pubblico di Piazza del Popolo a Roma in una gara all'ultima canzone, vinta da Federica Abbate presente sul palco della finale. . Radio 105 è media partner dell'evento e partire dalle 18,00 trasmetterà dall'area Expo Parco Main.